Lo si può definire un soft lockdown, quello attuato dal sindaco di Sperone a seguito del proliferare dei casi in paese. 12 nelle ultime tre settimane, Marco Santo Alaia ha varato un'ordinanza con la quale invita i cittadini a recarsi negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali solo in caso di estrema necessità. Nello stesso atto c'è anche l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto e quello di effettuare la sanificazione dei locali commerciali. Poi ovviamente ci rimettiamo sempre al buon senso perché per quanto possiamo esercitare un'azione di controllo forte, serrata, stringente, tanto fa il senso di responsabilità della mia comunità. Il focolaio tra il mandamento e il Vallo Lauro preoccupa, ad oggi sfiora quota 40 e lo stesso Alaia si è sottoposto a tampone, risultato negativo, per essere entrato in contatto con un caso positivo. Responsabilmente ho ritenuto di sentire i medici di base del paese per condurre uno screening epidemiologico sul territorio comunale. In paese condividono le misure adottate dal sindaco, non manca anche qualcuno particolarmente critico con i propri concittadini. E' certo, solo per necessità, anzi se ci giudono fanno bene, a me mi sta bene se ci giudono, perché lo vogliamo noi. La prudenza non è mai troppa in questi casi, è bene stare attenti e attuiamo tutte le regole che ci danno le autorità.